Mi sono stancato ogni sera, al telegiornale dicono che la Sicilia è l'ultima regione per il numero di vaccini, poi tra l'altro Messina è l'ultima tra le città siciliane. Mi sono stancato, basta, adesso basta. Allora voglio scendere in campo, non da solo naturalmente, e dire che facciamoci sto vaccino, perché io essendo ignorante come il 99,99% e non sappiamo bene cosa c'è dentro il vaccino, come è fatto Pfizer, Johnson, come si scrive, però essendo ignorante ma non stupido, seguo le persone intelligenti, cioè la scienza, perché mi fido, perché storicamente ha dimostrato di salvare tante vite umane, la scienza, la medicina, e quindi vado appresso a loro e mi vaccino e invito a vaccinare. Però io, che sono appunto ignorante, adesso passo la parola a una persona che vi sa dire qualcosa di più preciso, il professore Firenze, commissario Covid. Mi sono stancato, Nino dice una cosa giusta, mi sono stancato anch'io, mi sono stancato di ancora accettare un fatto legato alla scarsa vaccinazione. Noi abbiamo l'occasione, l'opportunità di evitare i tanti ricoveri in ospedale, i tanti ricoveri in terapia intensiva. Il dato oggi che più è lampante è il fatto che il 100% dei soggetti ricoverati in terapia intensiva sono soggetti non vaccinati. Se il 98% dei soggetti in degenza ordinaria è ricoverato oggi per il Covid è non vaccinata. Allora non capisco ancora perché abbiamo dubbi a vaccinarci, ad avere l'opportunità di dare finalmente seguito a un'operazione che potremmo chiamare libertà e sicurezza. Abbiamo la necessità di essere sicuri e di essere liberi. L'occasione ce l'abbiamo, ce lo dice anche Nino Frassica, raccogliamo l'invito e vacciniamoci tutti a Messina, così come in Sicilia e così come nel resto d'Italia.